la quinta corsa è il premio Nicola Merola intitolato al nonno di Nicola Merola papà di Antonio Merola un handicap per anziani sulla distanza del doppio chilometro sette concorrenti allo start due i penalizzati ricordiamo partenza con nastri tradizionali i nove concorrenti entrano negli stalli di partenza partenza subito considerata valida assunto l'iniziativa anzi dovrebbe trattarsi di Nerito Mec si Nerito Mec su Vinagrette Fonte Zor Ben Glori passaggio davanti alle tribune la rottura di Zor Ben Glori così Nerito Mec leader dopo 400 metri in 31 e mezzo è formato una lunga fila indiana con l'allievo di Raffo Forino affidato a Crescenzo Maione a dettare i ritmi della gara che sono piuttosto soporiferi tanto è vero che i 600 sono percorsi in 50 scarsi arriva dalle retrovie Zellig ma Zellig si avvicina solo gradualmente mentre c'è un'autostrada all'interno non sappiamo se è valido o meno ma consente a Tiffany Pride di rimanere al comando ci stiamo capendo veramente poco nel frattempo ha sbagliato volo di Argal Tiffany Pride incredibilmente si ritrova davanti mai vista cosa del genere adesso è Zellig Jet ad intervenire e sfilare a condurre ad 800 metri dalla conclusione quindi Zellig Jet su Tiffany Pride Nerito Mec con ai lati Urbi e Torbi Jet 600 ha la conclusione con l'allievo di Vincenzo Luongo che sta allungando repentinamente nei confronti di Tiffany Nerito e Vinagretti il treno interno notevole la frazione di fronte in 14 e mezzo Tiffany Pride si sposta per andare ai lati del Battistata che però sta cambiando marcia Nerito Mec a largo anticipato da Tiffany che però non sembra averne molto ingresso in retta d'arrivo la rottura di Nerito Mec Zellig Jet avvicinato da Tiffany Tiffany va su Zellig lotta serrata tra i due Zellig Jet e Tiffany fin sul traguardo perfettamente apparigliati immediatamente diciamo Tiffany ma la dobbiamo rivedere la dobbiamo rivedere perché sono molto ma molto vicini i due Corsaro Cambolesca è successo di tutto e di più e alla fine la Tiffany Pride potrebbe avere una narice davanti a Zellig Jet sull'ultima curva era anche a guide lente sembrava non riuscire ad impegnarsi la media dovrebbe essere intorno all'1 18 e 7 per chi vince comunque attendete attendete il giudice d'arrivo per la foto al terzo e Vinagret Font quindi la vita Grazie a tutti.